Musica Ci sono interviste che ha fatto lei con Ballarò E non avete mandato niente Non sono Ballarò E c'è un po' di confezione E' uno Qualunque Quindi lei riprende Noi che riprendiamo per evitare che Ma perché le dà fastidio? No, vogliamo capire come funziona No, non è un fastidio Quindi lei riprende Noi che riprendiamo per evitare che noi possiamo dare notizie di legno Anche E' così Sì, sì Come si chiama lei? Maurizio Maurizio e lavora per l'onorevole Ruocco o in generale per i grillini? Per quello che ha detto lei, i grillini Per i grillini Quindi per i cittadini onorevoli lei regista tutto Sì, sì Viene pagato, sì Eh, certo Contratto regolare Come lei, giusto? Assolutamente sì Io ho un contratto regolarissimo Precario però Ma regolarissimo Lei è precario? A progetto E lei invece? A progetto E qual è il progetto? Il progetto è Riprendere noi che riprendiamo voi No, fare un minimo di informazione Visto che voi tagliate Fare un minimo di informazione visto che noi tagliamo Quindi questo è proprio da microfono di legno Giusto? Esatto Grazie Maurizio Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti